Ivan fa un po' strano vederti con un'altra maglia, con altri colori, una nuova avventura qui a Pineto. Che sensazioni ci sono al primo giorno? Da una parte oggi era meglio che mi ammazzavano, mi facciano meno male. Dall'altra sono contento comunque che comunque una società del genere come Pineto, molto conosciuta in questa zona, società seria, sta gradendo in me comunque. Ho voluto a tutti i costi, ho fatto di tutto per farmi venire qui. Ovviamente dopo tutto quello che mi è successo a Teramo ci sono tutte le condizioni per venire e sono contento. Ovviamente è molto strano dopo tutti gli anni che ho passato. Per me Teramo era la mia vita, è la mia vita perché ce l'ho ancora nel cuore e lo sarà sempre, però devo guardare avanti per forza. Ecco, è innegabile intravedere un po' di amarezza, parecchia amarezza nelle tue parole. Che cosa ti ha lasciato quest'ultima parte, quest'ultimo inizio di avventura con il Teramo? Ma è quello che non mi aspettavo perché ovviamente dopo tutto quello che era successo è un po' tutto il rinnovamento ovviamente, però all'inizio come avevo detto faccio parte del progetto invece dopo non so e non ho capito ancora tuttora cosa sia successo. Quindi mi dispiace tanto perché ripeto ho fatto tanti anni fa già una scelta di vita rifiutando anche categorie superiori al di là dell'aspetto economico perché io comunque a Teramo stavo bene e ho fatto quella scelta. Ovviamente fino a qualche mese fa non era proprio... Nell'agenda. Sì, assolutamente, quindi ti lascia spiazzato e quando una cosa non te l'aspetti è come un uragano tra virgolette, però purtroppo il calcio è questo e ne devo prendere atto. Quando c'è stata l'accelerazione, quando hai capito insomma nelle ultime ore da quello che abbiamo potuto intuire? Sì, sì, loro diciamo un pochettino proprio a fine mercato me l'ho chiamato il mio procuratore il 31 se non erro che dovevo andare via e quindi non ho avuto nemmeno tanto tempo di lavorare il mio procuratore per altre sistemazioni. E poi sì, nelle ultime ore da lunedì c'eravamo un attimo seduti per vedere un attimo qual era la soluzione migliore sia per me ma anche per loro ovviamente perché io comunque non volevo essere a un peso né per la società, né per tifosi, né per la squadra assolutamente perché non è nel mio essere e quindi a mio malincuore anche avendo un anno di contratto ho tolto il disturbo. Vieni in una società ambiziosa, seppur in Serie D, ritrovi per esempio un ex compagno di squadra come Stefano Amadio che ti aspetti da qui in avanti? Conosco un po' di ragazzi che stiano qui come Orlando che comunque stava a Teramo lo stesso Alfonso, Pepe, Jonathan, conosco abbastanza diciamo so che comunque hanno belle ambizioni, è una squadra costruita molto bene con un allenatore comunque molto bravo che conosco quindi spero di togliermi e toglierci tante soddisfazioni con il Pineto. L'ultimissima, insomma immagino che tu lo hai fatto ti avevo visto anche molti ti hanno salutato sui social e non solo se vuoi salutare insomma la tifosieria del Teramo. Ma sicuramente lo faccio qua anche perché forse è la prima occasione infatti non ho avuto tempo fino adesso perché anche fino adesso non ero nulla di ufficiale è stato poche ore fa tutto e lo farò dopo magari con qualche post ovviamente però li ringrazio davvero di cuore e ripeto mi fa veramente strano tutto ciò ancora magari non ho realizzato del tutto però ringrazio per tutto quello che mi hanno dato in questi anni perché mi hanno dato veramente tanto e ripeto se ho fatto la scelta anche grazie a loro non andare mai via e rimanere a Teramo quindi porterò sempre il mio cuore, sarò sempre il primo tifoso del Teramo perché auguro veramente che possa arrivare il più in alto possibile e ripeto ringrazio veramente di cuore tutti.